E' bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti in Kiwi! Ciao a tutti ragazzi, ciao cari! E si, se vi state chiedendo, ma vedo qualcosa di strano, vedo in maniera un po' diversa rispetto al solito Beh, e si, perché ho fatto un upgrade Sto usando adesso la nuova Sony ZV-1 Ecco ragazzi, rispetto a prima che usavo questa bella cinesata Eh? Eh ragazzi, che roba Vabbè, però voi mi avete conosciuto con sta cinesata e ora avete l'upgrade Eh ragazzi, dai ragazzi, allora iniziamo adesso Ma prima di iniziare ragazzi, proprio per festeggiare questo upgrade che ho fatto Ragazzi, ora non avete più scuse, dovete iscrivervi al canale Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, mettete like Tutte sti cose qua, che dovete fare sempre, ora più che mai Quindi ragazzi, iniziamo questo nuovo format di storie incredibili Oggi andremo a parlare di Steve Jenkins Ma chi è Steve Jenkins? Steve Jenkins è il ragazzo che ha comprato una bella maialona Senza saperlo E no, non è una donna molto procace Ma una vera e propria maialona Una maialona da campagna proprio Ma partiamo dall'inizio, ok? Steve Jenkins vive col suo fidanzato Derek Ok? In America, da qualche parte lì in America Vabbè, non interessa E quindi che è successo? Lo chiama un bel giorno una sua amica di università Di quando andavano ancora all'università Quindi una compagna di classe Lo chiama e gli dice Pronto Steve? Sì, ho saputo che ti piacciono gli animali E quindi ho un maialino da dare via Un maialino da compagnia, sai Non cresce molto Al massimo diventa grande quanto un gatto bello robusto Ma niente di più, stai tranquillo All'epoca Steve Jenkins aveva già due cani Due gatti e una carpa coi e una tartaruga Quindi già stava bello unguaiato Però vabbè, gli animali su animali Se vogliono bene animali Volemo bene gli animali E quindi Steve Jenkins che disse Disse, guarda Ne parlo col mio ragazzo Derek E vediamo se è un altro animale O potemo piacere Vabbè E quindi Attacca giù il telefono Derek Manco io va di tanto Perché è successo lì per lì, diciamo E quindi dopo qualche oretta Richiama L'amica dell'università A sto Steve Gli dice Pronto Steve? Senti C'è un altro amico Che vuole assolutamente Questo maialino La mente a te Steve Dice Dai io Che mo' chiama me Questa ci stava a provare Vabbè Quindi Dicevo Steve C'è stato un altro ragazzo Che è interessato Al maialino Lo vuoi Perché se no te lo do a te Visto che a te Piacciono gli animali E adoni gli animali So che con te Vivrebbe molto bene Questo maialino Tanto come dicevo Resta molto piccolo E' solo un maialino Da compagnia Steve Ovviamente Messo così Ai corde Con acqua alla gola Disse Vabbè Damo a me Mo' lo pio io Anche perché All'epoca Andava molto di moda Piasse sti maialini Da compagnia Perché pure Paris Hilton E George Clooney Ci avevano uno Capito? Quindi disse Oh Il maialino da compagnia Come grandi star E' una figata Tanto che me frega Resta piccolo A massimo Da quanto un gatto Diciamo che amo tre gatti E quindi si andò A prendere Questa bella Maialina E la chiamò Esther Quindi ora Quando sentirete dire Esther Mi rivolgo A maialina Per ora Maialina Perché Nel frattempo Derek e Steve S'abitano A sta bella Maialina Ma iniziano a vedere Che c'è qualcosa Di strano Perché Dopo qualche mese E la maialina Era piccola Più o meno Così Era Cioè Era tipo Una quarantina Di centimetri Era proprio piccola Aveva tipo Sei mesi Era proprio Cucciolotta Quindi dopo qualche mese Però Iniziarono a vedere Che diventava Sempre più grande Più grande Più grande Più grande Più grande Iniziò a diventare Grandezza Quasi quanto Ha un cane Ha un bel cane Bello robusto E disse Ma Mi sa Che c'è qualcosa Di strano Mi sa Che qua Tipa Ma fregato E quindi Che è successo Andò Al veterinario Con sta Maia Diciamo Maia Con Esther Andò al veterinario Con Esther Ok Ed il veterinario La controllò Disse Guarda C'è un piccolo problema Perché Questa Non è Una maialina Da compagnia Questa Non rimane Piccola Come Te l'ha detto L'amica tua Ma è Un vero E proprio Maiale D'allevamento Di campagna Se le cose Vanno bene Arriverà a pesare Massimo 100 kg Se le cose Invece Non vanno bene Può arrivare a pesare Anche fino a 300 kg Indovinate Come è andata A finire Perché Perché se le cose Possono andare male Stai sicuro Che andranno male Quindi Di conseguenza La maialina Esther Indovinate A quanto Arrivò a pesare Oh Arrivo a pesare 300 kg 300 kg Ragazzi Dopo Nemmeno Un anno Arrivata a pesare 300 kg Raga Derek E che Steve Guarda Non sapevano Più che fare Però Ovviamente Col tempo Si erano Affezionati Infatti Esther Seguiva Steve e Derek Dovunque andassero Era un cagnolino Proprio E questa Esther Si era anche abituata A stare in casa Perché siccome i maiali Non sudano E si perché i maiali Non sudano Non hanno proprio Fisicamente Quelle cose Che fa uscire Il sudore Dalla pelle Non ce l'hanno Quindi i maiali Non sudano E non puzzano Loro per loro Capito Che non hanno sudore Quindi Se Quando incontri Una persona Tutta sudata Tutta così E gli vuoi dire Madò Quello Suda come un maiale I maiali Non sudano Quindi Non puzzano Di sudore E ciò che fanno In mezzo alla campagna In mezzo ai così Loro che Gli fanno puzzare Ma Loro per loro E se sono belli Puliti Curati E sistemati Tutto Carruccio Tutto Pettinato Non puzzano Ok Ricordatevelo Anche perché Esther era pure Indipendente E certo Che gli amano A di Esther Che faceva Quelli Gli apriano La porta Quella E se ne andava Pi fatti Sua Diceva Io Io Me ne vado A cagare E se ne andava A cagare E poi Ritornava Diciamo La pulivano Sistemavano E quindi Era pure Indipendente St'A estero Manca A dargli Tanto Dietro Perché Sa vedeva Da lei Sa vedeva Però Erano stretti In questa Casa Dove Vivevano Perché vivevano Tipo In una casa Tipo la mia Diciamo Tipo Una grotta Così Una casa Così Era troppo stretta Quindi Hanno fatto Una raccolta Fondi Per andassene A vivere In un'altra Parte E hanno trovato Una bella Fattoria Quindi sono andati Tutti quanti A vivere In questa Fattoria E hanno tirato Su un bel Rifugio Per animali Dove vivono Stiderek E Steve La bella Magliala Esther Che nel frattempo È arrivata A pesare 300 chili Ricordatevelo 300 chili E quindi E i loro Cani E gatti Tartaruga Carpaco E tutti quanti Insieme E attualmente Stanno ancora Prendendo animali Che vengono Abitualmente Abbandonati Voltacci vostra Che abbandonate Gli animali E quindi Che è successo Che ora Vivono Tutti belli Felici e contenti In questa Fattoria Di rifugio Per animali E Steve Dedica La maggior parte Del suo tempo Alla gestione Del profilo Dei profili Social E gli altri E Derek Gisistiscono La fattoria Rifugio per animali Ok Quindi E allora Vivono tutti Belli Felici e contenti In sta fattoria E namo su E non mi ho capito Almeno una storia Che finisce Belli In lieto Fine Tutti felici E contenti In fattoria E va Quindi Sta Esther Sta bella Maielina Esther Diciamo All'inizio Era un po' Una cosa Così Dice Ma ma che Mi è successo E invece No Si è trovata Una bella Una bella Influencer Dentro casa E quindi Beh Però l'importante È che se vogliono Tutti Bene Bravi Steve E Derek Quindi Oggi Vi ho raccontato Questa storia Incredibile Perché si Ragazzi È una cosa Incredibile Quindi Ci vediamo Ragazzi Al prossimo Video Di Giochi Spam E mi raccomando Ragazzi Ricordatevi Di Iscrivervi Al canale Attivare La campanella Commentare Tutti I cose Che dovete Fare Sempre Mi raccomando Ragazzi Ci vediamo Al prossimo Video Ciao Gari Gia Grazie a tutti